Buongiorno, buongiorno, benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è giovedì 8 ottobre e Luigi Guglielmi vi accompagna nella lettura dei titoli principali che riguardano la provincia di Belluno. Cominciamo oggi con il fascicolo locale del Gazzettino. Oggi il Gazzettino mi sembra particolarmente ricco di notizie che ci possono interessare. Il titolo di apertura, con un'impaginazione un po' diversa dal solito, abbastanza grande a tutta pagina, riguarda il coronavirus ed è questo, studenti positivi chiude il convitto. La struttura nesta all'albergo Dolomier di Longarone è stata sigillata, sigillata è messo tra virgolette, perché due ragazzi hanno contratto il virus. Voi sapete che con le nuove regole che la regione si è data, se il positivo in classe è solo uno, si può andare avanti sostanzialmente. Bisogna fare tutti gli accertamenti con le altre persone che sono venute in contatto con la persona positiva, che sia un ragazzo o che sia un insegnante. Se i test rapidi danno conferma che si tratta di un unico caso, si può andare avanti. Con diverse cautele le persone devono comunque evitare di fare sport con altri, di incontrare altre persone, ma la scuola può continuare, si può continuare a fare una vita praticamente normale. Se invece i positivi sono due, scattano le misure solite di quarantena sostanzialmente. Dice ancora il gazzettino, vertice ieri in prefettura con le forze dell'ordine, l'ULS, Dolomiti e i sindaci di Belluno e Feltre per studiare le contromisure. Vedremo che c'è molto movimento a Belluno nella nostra provincia per cercare di trovare i modi di affrontare nel modo migliore, di portare avanti nel modo migliore l'epidemia. Per esempio si lavora, c'è un contatto tra ULS e industriali per realizzare un programma, un protocollo che permetta di non bloccare le industrie. Ecco, credo che siamo davanti veramente ad una maturazione nel nostro senso di responsabilità, nel senso che anche le istituzioni cominciano veramente a prevenire il problema, cercare di arginarlo, per cercare di arginarlo e di preparare un futuro non drammatico come è stato in marzo quando siamo stati colti tutti alla sprovvista da questa cosa. Tutto questo necessario, utile, non perché siamo troppo scrupolosi e previdenti, ma perché i numeri, lo vedremo oggi, sono veramente importanti. Nella giornata di ieri l'ULS ha comunicato che sono stati trovati più di 60 positivi e così tanti non li si era mai trovati in questa seconda ondata, chiamiamola così, insomma. Allora andiamo avanti con il gazzettino e vi leggo anche qualcosa di più del lancio, insomma in copertina riguardo a questa notizia, chi ci segue sui social lo legge con me praticamente perché ve lo ingrandisco in misura sufficiente. Il maxifocolaio del Comelico si allarga a cerchi concentrici, come detto dall'ULS, e i positivi continuano a salire. Sono 65, vi dicevo prima, in un sol giorno, ieri, 65, mai visti così tanti, eravamo sui 20, forse avessimo toccato i 30 al massimo, questo per darci le proporzioni perché ci serve sempre un po' di memoria, e continuano anche gli allarmi nelle scuole, dice il gazzettino, quattro casi positivi tra studenti e prof hanno causato la chiusura del convitto maschile dell'alberghiero di Longarone. Oggi si saprà la verità per una quinta persona del Renier, dove c'è una luna, una quinta, scusate, una quinta classe del Renier, dove c'è una luna positiva. Eccolo qui, vedete il criterio che vi dicevo prima, no? Si sa che c'è una luna positiva, si fa l'esame rapido a tutti gli altri, se nessun altro si dimostra positivo, si può andare avanti lo stesso. Se invece dovesse aggiungersi un altro caso, allora la classe va in quarantena, queste sono le nuove regole. Ieri la diffusione del virus è stata al centro del comitato per l'ordine e la sicurezza in provincia, in prefettura, è emerso che i contagi sono dovuti al mancato utilizzo delle mascherine. E allora anche qui adesso abbiamo l'obbligo di portarla sempre fuori, all'aperto, in tutti i contesti in cui si può incontrare qualcuno. Se andiamo a fare il giro sul sentiero in montagna possiamo fare a meno di metterla, però se c'è il rischio di incontrare qualcuno dobbiamo metterla e comunque dobbiamo averla sempre con noi. Questo dice la legge, le multe sono molto salate, sapete, siamo avvisati, si va dai 400 euro in su se veniamo presi senza mascherina, quindi bisogna averla con noi. Siamo sinceri e siamo maturi. Avere la mascherina con noi e indossarla, se siamo in un contesto in cui ci sono altre persone, non è un sacrificio. Quindi se questo veramente è il modo per riuscire ad arginare la diffusione del coronavirus, che vuol dire evitarci problemi di salute, evitarci sofferenze, evitarci problemi sul lavoro, evitare chiusure. Per carità, lo diciamo anche noi qui dall'Amico del Popolo, da Radio Piave, mettiamo questa mascherina, mettiamola perché se basta questo per salvarci, insomma diciamo così, allora dobbiamo veramente fare uno sforzo in più. Allora, trasporti, campagna sui bus per le regole anticontagio, altro titolo di questa prima pagina del gazzettino nel fascicolo di Belluno. Crollano gli abbonamenti al trasporto pubblico, lo dicevamo già ieri. Dolomiti Bus spinge al massimo sulla sicurezza. Dai prossimi giorni a bordo dei mezzi ci saranno infatti messaggi informativi e richiami per viaggiare in sicurezza secondo le regole anticontagio. La foto grande del gazzettino va in verticale oggi e parla di hockey e dice così, hockey e ghiaccio salta la partita. Casalinga, quattro contagiati, il Cortina si ferma, vedete com'è, vedete com'è. Se non siamo attenti va così, ci si ferma in tutte le cose e questo è un disagio per il mondo dello sport, per tutto l'indotto che crea, l'abbiamo visto anche l'altro giorno con la vicenda del Napoli e della Juve, così è. Per l'irresponsabilità, per la leggerezza di qualcuno, magari non di molti, finisce che poi ci dobbiamo fermare tutti e paghiamo tutti le conseguenze. Quindi per carità. La didascalia è questa, partita sospesa questa sera per l'afro Cortina che avrebbe dovuto incontrare in casa all'Olimpico i discatori, quelli del dischetto del Gardeina. La positività di quattro atleti al Covid-19 ha spinto precauzionalmente la società ampezzana a disertare il ghiaccio. C'è stato un commento importante di Zaia sul Vaionte, ricordiamoci che si prepara l'anniversario, che è domani, e Luca Zaia, il Presidente della Regione, si è espresso sull'argomento con parole forti. Personalmente sono contento che ogni anno arrivino delle dichiarazioni nette sul Vaionte, per quello che è stato, per quello che ha significato. Il Vaionte insegna il territorio, si deve rispettare, ha detto Zaia, ha detto cose anche più forti, forse lo incontriamo nei risoconti del giornale. Ecco qui per esempio la frase di apertura dell'articolo firmato da Giovanni Santin, ciao Giovanni, chi ancora non capisce che lo sfruttamento della natura deve essere equilibrato, visiti il cimitero di Fortonia. Chi ancora non capisce che lo sfruttamento della natura deve essere equilibrato, visiti il cimitero di Fortonia. A dirlo è stato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, alla vigilia del 57esimo anniversario della tragedia del Vaionte, di cui domani ricorre l'anniversario. In un momento storico come questo, in cui sembra un'anime l'esigenza di una maggiore sensibilità nel rispetto del pianeta, e per usare le stesse parole di Papa Francesco nella cura del creato, la tragedia del Vaionte rimane un monito affinché l'indispensabile sfruttamento della natura sia sempre equilibrato in condizioni di sostenibilità e sicurezza. Ecco, questi concetti stanno emergendo grazie anche al lavoro fatto dal Papa con laudato sì, veramente un po' alla volta ci rendiamo conto che dobbiamo sì utilizzare, servirci anche di ciò che la natura ci offre, ma dobbiamo anche custodirla, la parola chiave è questa, è un concetto perfino biblico, non è che l'abbiamo inventato noi adesso. Belluno, possibile riapertura di campo scuola e coca bassa, gli imprenditori sono al lavoro, siamo sempre sulla prima del gazzettino, dove però un altro titolone importante, oltre alla notizia, che è stata ritrovata la bandana del cardiologo che è scomparso a Cortina, vediamo un po' se si arriva a rinvenire il corpo di questa persona, purtroppo le speranze ovviamente sono quasi nulle, sulla possibilità di trovare in vita questa povera persona. A San Donato, Lamon, è in arrivo l'antenna telefonica, siamo ai blocchi di partenza per la costruzione di un'antenna radiomobile per i residenti e i turisti, stabili e di passaggio di San Donato, la frazione di Lamon più alta in quota, un'area turistica con un tratto della strada della celebre via romana Claudia Augusta Altinate, sopra le crode del Monte Coppolo. Insomma, mentre in altri comuni si fanno battaglie contro le antenne, a San Donato c'è stata la battaglia per ottenerla, ecco anche questo è significativo e dovremmo stare molto attenti nelle battaglie che si vedono fatte in giro contro il 5G, perché bisognerà essere sicuri di volerne fare a meno là dove si propria testa, perché si rischia di tagliarsi fuori, bisogna calcolare i rischi per la salute, d'accordo, ma si rischia di tagliarsi fuori da una possibilità veramente importante di restare agganciati col mondo. Rissa in piazza, insulti e bottigliate, paura tra la gente, lo scontro tra due gruppi già conosciuti alle forze dell'ordine è stato immortalato in un video. Vi leggo questa breve cronaca, firma Gabrielli, ammazzalo, ammazzalo, attimi di panico, ieri pomeriggio ad Agordo alcune persone in chiaro stato di alterazione psicofisica si sono prese a pugni, calci e anche a bottigliate in testa, diffondendo il terrore tra chi aspettava l'autobus e chi andava a fare la spesa, siamo nella zona appunto della stazione delle Corriere dove c'è anche il supermercato, dove ci sono numerosi negozi, dice Gabrielli, e dove altre volte le due gang si sono scontrate, la guerriglia è stata immortalata in un video, viene da dire, pazzesco, robe da matti. Incredibile che anche da noi succedano queste cose, siamo abituati semmai a sentirne cronache da altre parti, da altre zone, insomma due gruppi di guerriglia che si scontrano incitando addirittura ad uccidere, come se poi non vedessimo fatti di questo genere che ci fanno impressione a livello nazionale e che dovrebbero insegnarci che con queste cose non si accede. Sedico palpeggiò l'amica in casa di riposo operaio stangato, due anni di reclusione per aver palpeggiato la dipendente della RSA e la sentenza per un 68enne di Sedico che lavorava come operaio nella struttura. Allora adesso lasciamo stare questa prima pagina del gazzettino e andiamo avanti con questo giornale, il titolone di pagina 2 mi sembra estremamente significativo, vedete, nell'inquadratura si vede bene il tavolo della prefettura, siamo davanti al prefetto, siamo davanti al questore, siamo davanti al capo dei carabinieri, il titolo dice questo, zero mascherine, boom di contagi, è un virgolettato, cioè è proprio una causa conseguenza, zero mascherine, boom di contagi, cioè adesso sappiamo benissimo perché siamo in questa situazione che non si esita a definire già grave. Questo perché? Perché appunto ormai si ha la certezza che stiamo pagando il conto di un atteggiamento troppo libero nei confronti del virus e il fatto di non aver portato le mascherine è quello che ci ha portato al boom di contagi. Allora, come dicevamo prima, la conseguenza è, adesso c'è anche l'obbligo di legge, ma cerchiamo di rispettarlo perché convinti, non perché costretti dalla legge, perché se no non arriviamo da nessuna parte, portiamo queste benedette mascherine. Dunque, lo ha spiegato ieri Luz Dolomiti al Comitato per la Sicurezza in Prefettura, un'analisi ha individuato la causa dei vari focolai e qual è appunto il fatto che non si sono portate le mascherine. Il tavolo presieduto dal prefetto era incentrato sulla diffusione del virus in provincia. In 24 ore, 65 casi, siamo sopra i 300 infetti. Allora, andiamo a vedere qualcosa di più dell'articolo di cui vi ho letto il titolo. Le principali cause del contagio del Covid-19 stanno nel mancato utilizzo della mascherina e negli assembramenti che si verificano all'esterno degli edifici scolastici o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i bar, in sostanza. È stato detto ieri nel tavolo che si è tenuto in Prefettura Belluno sul contagio che in provincia continua a salire solo nelle ultime 24 ore. Ieri si segnalavano 65 nuove positività, 12 delle quali nel maxifocolaio del Comelico. Quindi in Comelico, come già avevamo detto ieri, che ne erano state trovate poche, in Comelico ci sono tanti più positivi di quello che crediamo. È logico, abbiamo visto salire il numero dei positivi quando c'è stato il tampone di massa, però è logico che ce ne sono molti di più. Le cause sono state individuate dall'analisi dell'attività di screening effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulsuno Dolomiti, illustrate ieri dal Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Adriana Cogode, al quale hanno partecipato le forze dell'Ordine, i rappresentanti della provincia, del Comune di Belluno, i sindaci di Feltra e Pedavena e il Direttore Generale dell'Ulsuno Dolomiti. Per frenare tali comportamenti che hanno portato Belluno vicino alle grandi province per contagio, Padova ha solo il doppio dei nostri infetti, pur avendo una popolazione molto più elevata, è stata attivata una task force che opererà in due direzioni, da una parte sensibilizzando la popolazione e dall'altra attuando un ferreo controllo. Al centro dell'incontro di ieri, ha spiegato la Prefettura in una nota, la situazione venutasi a creare sul fronte dell'epidemia e l'esame delle conseguenti misure di prevenzione da assumere a tutela della salute pubblica. Infatti, in base ai dati forniti dall'azienda sociosanitaria, ormai da giorni si registra anche nel bellunese un deciso incremento dei contagi. In particolare, alla data di martedì risultavano 239 persone positive al Covid, 756 soggetti in isolamento fiduciario e domiciliare, 23 pazienti positivi ricoverati in area non critica all'ospedale di Belluno, 115 decessi dal 21 febbraio, quindi 113 della prima ondata più due di questa e 97.203 tamponi effettuati dal 21 febbraio a ieri. Al momento la zona a più elevata diffusione è senza dubbio quella del Comelico, con un importante focolario epidemico che interessa i comuni di Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore, con un totale di 107 persone positive e 227 in isolamento domiciliare. Amici, Comeliani, forse la si è presa troppo sotto gamba lassù, avete, abbiamo un modo adesso per invertire la rotta, mettete la mascherina. Ma nemmeno il tempo di fare un bilancio e diffondere il comunicato stampa che i positivi superavano quota 300 come da bollettino di azienda 0, poi diffuso ieri sera, leggo ancora sul gazzettino. Da una parte quindi verrà lanciata, ha detto la Prefettura, con lo sforzo sinergico di tutte le istituzioni coinvolte, una campagna di sensibilizzazione sull'assoluta necessità di rispettare le tre semplici regole per contenere la diffusione del virus. Questo è il virgolettato della Prefettura di ieri, assoluta necessità di rispettare le tre regole, utilizzo della mascherina, distanza interpersonale di almeno un metro e frequente igienizzazione delle mani. Dall'altra verrà attuata un'attività preventiva accompagnata dall'intensificazione dei controlli delle forze di polizia che riguarderanno soprattutto i contesti territoriali più interessati dal contagio e tutte quelle realtà sociali nelle quali maggiormente si riscontrano comportamenti non in linea con le disposizioni vigenti. Ecco, questa è la cronaca sostanzialmente di quanto emerso nell'incontro nel tavolo della sicurezza convocato ieri in Prefettura. Quattro casi all'alberghiero, dicevamo, chiuso il convitto maschile e questo è un altro segno dell'escalation del nostro problema. Oltre ai positivi a Longarone, una luna infetta anche al Renier, oggi i test, poi la decisione, il focolaio si allarga centri concentrici, dopo il comelico ora preoccupa il Cadore. Dunque, dicevamo appunto il Cadore e Cortina, tant'è che Cortina, pagina 3, ok Cortina, 4 infetti, salta la partita casalinga. Il messaggio che si vorrà veicolare attraverso Dolomiti Bus lo troviamo in basso in questa pagina e questo, il trasporto sicuro dipende anche da te, la campagna antivirus di Dolomiti Bus, come vi dicevo prima, abbiamo anche le leggi che ci impongono di comportarci in modo adeguatamente cauto e prudente, però la vera differenza la faremo noi quando al di là della legge capiremo quali sono le reali necessità che questo virus, questa epidemia ci impone e ci comporteremo di conseguenza, non perché lo dice la legge, ma perché abbiamo capito noi che bisogna comportarsi con cautela. Si va sulle cronache di Belluno, Coca e Camposcuola, parliamo del Nevegal, Spiraglio per l'inverno, ma è molto difficile, noi corriamo un po' veloce su queste cose qui, vi ripeto c'è il bel intervento di Zaia sull'anniversario del Vajont, lo troviamo a pagina 6 del Gazzettino Vajont, tragedia che insegna ancora il discorso del Presidente della Regione in vista della ricorrenza in quei giorni i volontari sono diventati la protezione civile, chi ancora non capisce che lo sfruttamento della natura deve essere equilibrato deve visitare il cimitero di Fortogna. Vi leggo i due titoletti, mentre faccio scorrere verso l'alto la fotografia, solita se volete, ma drammatica, di longarone che non c'è più, con i volontari su questa marea di fango e pozze d'acqua, un anniversario, dice Zaia, che ci impone di ricordare come quasi duemila persone trovarono una morte orribile, duemila persone abbiamo perso quella volta. Ogni anno ci misuriamo con fenomeni che pur diversi ci impongono di intervenire in situazioni di gravità, sempre parole di Luca Zaia. Allora andiamo avanti col giornale, feltre gli equipaggi antidolore in tutte le case di riposo, cure palliative sperimentate in 3 RSA, il progetto sarà esteso a 16 strutture, se ne parlerà nell'assemblea annuale dell'associazione Sabato al Canossiano. Andiamo avanti ancora con il Gazzettino, nuova antenna, c'è campo, mentre tanti centri lottano contro i ripetitori, a San Donato era atteso, era atteso questo ripetitore, l'antenna per i telefoni, nel 2018 si tentò di realizzare il progetto, ora diventato realtà, con 100 mila euro. Porno vendetta, la barista costretta ad andare all'estero, gli scatti osè vennero diffusi dall'ex, ne abbiamo parlato ieri, era in prima pagina sul Corriere delle Alpi, divennero virali nelle chat feltrine, è una cosa estremamente grave e duramente punita oggi dalla legge, perché per fortuna c'è una legge che adesso si occupa del revenge porn. Teme l'incesto, picchia al moglie, stangato, si parla ancora di cronache dai tribunali, razzia del lupo a irrighe, quindi stiamo parlando sopra l'ongalone, sostanzialmente cani feriti, uccise 11 pecore, predazione notturna all'agriturismo, Ilari, molti animali dispersi nei boschi, attacco a col di melli in mezzo alle case, ovino sbranato, ma ora la gente ha paura. L'articolo sui pugni e le bottigliate in pieno centro, non ve lo leggo. Andiamo avanti, cardiologo disperso, bandana trovata nel rio Costeana, linfa nuova in municipio, Auronzo, 10 assunzioni, in tre anni Castellavazzo senza medico, colpa dell'Ulce, l'assessore risponde alla consigliera Sacchette, mi dispiace ma non riesco a immaginare come si pronuncia il cognome dell'assessore, quindi lascio a voi la possibile interpretazione, il fortino del Belluno regge, masocca, firma tre punti d'oro. Ora, voglio mostrarvi del gazzettino di Belluno una cosa importante che c'è a pagina 7 del fascicolo nazionale, però, e ve la mostro adesso. C'è una grande, bella intervista, guardate a chi, per chi ci segue sui social, a Leonardo Del Vecchio, il fondatore, il patron di Luxottica, si merita tutta la pagina praticamente, pagina 7 del Nazionale del Gazzettino, e Del Vecchio viene intervistato sul suo investimento, sulle sue manovre in Mediobanca. La banca che era stata storica, che era stata di Enrico Cuccia, un punto di riferimento per le finanze in Italia per decenni, ecco adesso Del Vecchio praticamente ha dei progetti molto importanti su Mediobanca, e il titolo è questo, Mediobanca è strategica, serve un piano ambizioso. Il fondatore di Luxottica, le polemiche, tiro dritto, faremo l'interesse del paese, è un investimento redditizio per Delfin, la finanziaria della famiglia, daremo stabilità al sistema finanziario. Vi leggo qualcosa perché, ripeto, si tratta di un'intervista molto bella che fa capire anche qualcosa di più sulla personalità di questo imprenditore che ha segnato sicuramente le sorti della nostra provincia negli ultimi decenni. Presidente Leonardo Del Vecchio, da oggi lei è ufficialmente socio di Mediobanca con oltre il 10% del capitale, che vuol dire un controllo veramente importante. Questo l'ho aggiunto io. Si ritiene soddisfatto? Direi contento di questa operazione, dice Del Vecchio. Come del resto, positivo sono sempre stato sin dall'inizio dell'investimento in Mediobanca. Dico di stare sereni anche ai tanti che hanno agitato le acque in questi mesi. Delfin da oggi è il principale socio ed è decisa di rimanere tale per lungo tempo, pronta a supportare la crescita dell'istituto e a sostenere progetti che spero saranno ambiziosi. L'intervistatore le hanno dato del francese. Alla sua persona si sono interessati i servizi segreti e il Copasir. A Milano hanno aperto pure un fascicolo giudiziario. Per mesi a più riprese sulle pagine economiche dei quotidiani italiani non si è parlato che di lei. Come ha vissuto tutto questo? E Del Vecchio risponde ho 85 anni. Ne ho viste tante dal dopoguerra ad oggi. Non mi perdo d'animo per così poco. Ho tirato dritto con i miei collaboratori, forte delle mie motivazioni e sicuro di coniugare in Mediobanca l'interesse del Paese e il mio personale, con un investimento a tutela e a sostegno della banca, ma anche redditizio per Delfin, per il grande potenziale che l'istituto può esprimere. Tutto il resto sono chiacchiere e anche qualche rancore di chi avrebbe voluto fare questa stessa operazione, ma non ne ha mai avuto il coraggio. L'intervistatore chiede ma perché investire proprio in Mediobanca con tutte le sue sensibilità e non in altre aziende meno complesse? Perché Mediobanca rappresenta il punto chiave, il nodo cruciale, lo snodo della finanza in Italia, no? Storicamente. Del Vecchio risponde in ogni paese ci sono snodi che per loro natura contribuiscono a garantire la stabilità del sistema economico e sostegno all'infrastruttura di imprese che ne fanno parte. Per questo sono convinto che pezzi strategici come Mediobanca e generali debbano essere dotati di un azionariato stabile e attento alle esigenze del Paese. Abbiamo assistito a segnali che rischiavano di assottigliare queste caratteristiche. Mi riferisco ad esempio allo scioglimento del patto di sindacato e al disinvestimento di soci importanti come Unicredit o Vincent Boloré. Questo ha creato la necessità e opportunità di un mio personale contributo. Allora c'è chi vede in generali il vero obiettivo, sapete che anche le assicurazioni generali ormai sono nell'orbita del Vecchio, l'intervista va avanti, io adesso non la leggo ma era solo per darvi il tono dell'importanza di questa intervista. Dunque gli chiedono anche quanto il Sud vuole salire, c'è chi ha insistito sul ruolo di Francesco Milleri che è il principale collaboratore, vicepresidente di Luxottica, la sua famiglia è con lei e rimarrà unita su queste posizioni, gli chiedono Delfine è una sua holding solida e manterrà il suo ruolo di azionista di lungo periodo, l'abbiamo dotata di una robusta governance affinché tutte le decisioni e gli investimenti siano sempre pienamente condivisi da tutti i soci, dice Del Vecchio, mostrando un quadro della sua famiglia unito e sotto controllo dal punto di vista degli investimenti finanziari. Sapete che questo è uno dei timori che riguardano il futuro per quanto riguarda Del Vecchio. Poi si fa riferimento a Luxottica, Del Vecchio dice io rimango un imprenditore e creare gli occhiali più belli del mondo e ciò che ancora oggi mi emoziona, questo dovrebbe emozionare anche noi bellunesi. Essilux rappresenta circa l'80% del patrimonio di Delfine, Mediobanca rientra nel 20% di investimenti finanziari, quindi la Del Vecchio, questa finanziaria di famiglia, resta quasi totalmente concentrata sulla produzione industriale e non sulla finanza. Nessun collegamento quindi, gli chiedono, vabbè lasciamo stare perché sennò veramente va via tutto il tempo, leggo solo questa domanda e risposta, tornando a Essilux, andrete fino in fondo con l'olandese Grand Vision? Le operazioni dell'operazione, le ragioni dell'operazione rimangono in mutate, se le autorità daranno via libera all'operazione, rimarrà solo da capire se gli ultimi mesi di gestione gravata dal Covid hanno avuto ripercussioni sui valori in campo. Andasse male, vi consolerete con gli occhiali intelligenti e con Facebook, l'annuncio di questi giorni è solo un esempio delle potenzialità di Essilux, risponde Del Vecchio, ancora tutte da esprimere, abbiamo idee, progetti e talenti su cui sono sicuro che il gruppo poggerà la crescita e la sua leadership negli anni a venire. Noi andiamo a vedere adesso che cosa c'è in prima pagina del Corriere delle Alpi e si punta sulle nuove regole, insomma, perché giustamente la gente va avvisata, va informata, mascherine sempre all'aperto, test per i visitatori nell'RSA, stretta sui controlli, mentre in tutta Italia è boom di casi 3.678, 1.000 più del giorno prima. Speranza, situazione seria, è il ministro che dice che la situazione è seria, vaccini drive-in per gli operai, industriali e Ulsuno studiano il piano, è quello che vi dicevo prima, in un giorno 65 contagi con vitto chiuso al Dolomier, 4 positivi al Cortina, salta la partita con il Gherdeina, l'avevamo già detto prima, Luxottica, no dei sindacati agli accordi individuali, Ponte nelle Alpi, il padron Cestaro, plaude al nuovo superstore di Unicom che apre appunto nell'area ex Comedil. Io mi fermo qui, vi faccio vedere, mentre vi saluto qualche altro titolo delle prime pagine del Corriere delle Alpi in questo sfoglio, io vi saluto, vi auguro come sempre una buona giornata, vi raccomando anche questi giornali che qui vi presento, che qui vi presentiamo, comprateli anche, comprate l'Amico del Popolo, comprate il Corriere delle Alpi, comprate il gazzettino, sosteneteci perché solo così riusciremo a fare informazione e a farla anche meglio che possiamo. Ciao a tutti, grazie, buona giornata.